e ciao a tutti io sono criovidol benvenuto a credo mi sembra il dodicesimo episodio su project 04 e nulla 4 5 giorni che non ci gioca non mi ricordo che cazzo devo fare devo andare nella aibara infermai infermary ok mappa e due cazzole forse devo prendere l'ascensore non mi ricordo neanche più i comandi ok così corro è giusto l'ascensore la camera ok era con y o triangolo su play è arrivato sto ascensore di merda oh cristina d'avena esamina noi siamo al terzo il quarto non va allora aspetta fai back e c'è qualcosa e ho capito che non risponde esci mappa quindi devo andare aibara 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 allora aibara io mi sembra che ero arrivato da qua si dal controllo di sto cascio e quindi io come faccio a cambiare mappa cioè andare alla mappa sotto sopra non credo che posso e no quindi o è sopra o è sotto sto posto io ricordo che vaffanculo sbaglio i tasti ricordo che è una blind run ma sotto se non sbaglio era bloccato almeno con l'altro personaggio mi ricordo che qua c'è un tipo di scatolone ecco delle sedi a rotelle però tipo qua se io faccio la mappa ok hidden room orkin ha dato una stanza da bambino di merda madocca ma lì aibara di sto cazzo dove è sapete che non so forse di qua perchè qua mi dice su quel corridoio se c'è un corrido e no secondo me allora al primo piano proviamo perchè io mi ricordo che sono sicuro sono arrivato da la quindi la non c'è un cascio fai da ancora la mappa io ho avuto 46 volte però non è aibara un cascio no rucca corrido no no e allora andiamo al primo piano esamina al piano 1 e funziona? si proviamo eh da 4 o 5 giorni che non lo tocco perchè ho fatto delle robe e poi ho giocato a resident evil 4 remake che è una figata assurda l'hanno pure cambiato un po' ma in bene rispetto al cazzo troia nooo ma devo io faccio così no non faccio così allora io faccio di qua comunque è bello il remake di resident evil 4 c'è anche dell'aggiunta aspetta eh aspetta che fammi vedere sto aibara due alle aibara questo qua è ah là ci sono altre scale all aso roghezzo ma boh noi proviamo ad andare di qua all'entrata principale devo scappare da sta troia aspetta io non succo un casso cazzo succhi perchè ancora in bianco e nero ah è a colori oddio allora adesso qua sono tranquillo quindi posso guardarmi la mappa eh ma si per forza perchè tanto di qua un casso proviamo ad andare di qua ma provo ma credo che giusto sia giusto perchè c'era la stronza che non devi guardare in faccia o devo sconfiggerla ma no non lo so proviamo di qua e da da veramente un botto che non ci gioco non capisco più niente vediamo se sto facendo giusto o sbagliato ok allora siamo qua qua passo vicino tra l'altro inventario items ah c'ho le medicine secrete oh c'ho il mio rostone con lei quindi sono a posto da qua la mappa che ci dice ci dice che devo salire le scale se non posso vedere il piano qua allora saliamo qua e qua mi dice che sono qua allora id del room life lobby quindi quindi però io non riesco a capire cerca hai bari infirmari mando cazzo le hai bari infirmari qua c'è la coso ma è il gabbiato dell'infermiere ma non è qua o è qua qua non non so da niente allora la puntata della mappa è questa qua eh stavo guardando ma non capisco queste qua sono le stanze dei pazienti non credo che sia lì secondo me secondo me ho fatto un giro inutile proviamo a scendere e di qua però non ero mai andato di qua qua così o si se io vengo qua open ah me la apre poi ero venuto qua ah qua mi collego ah là prima andare di qua va fa un culo ah forse a girare troverò il posto giusto ma tocca ma tocca qua è dove? ecco dove era bloccato quindi qua non c'è niente a parte quello noi siamo arrivati da là quindi qua sto piano qua e là non serve perchè qua è orky moon hidden room e no ma docca contro room oh magari devo battere la troia eh chi lo sa qua c'è qualcosa porco cane qua è la luce magari no qua dove? e io non mi ricordo se qua così ma che cazzo è? io non mi ricordo neanche se avevano fatto una foto qualcosa oppure no quindi qua eh dove siamo? qua è roghez wall house museo archivio ah qua c'è la troia primavera la troia non c'è più se io apro qua però qua andavi sotto eh si andavi sotto e forse qua sotto che giro che ho fatto ma veramente quante volte ho aperto sta cazzo di mappa qua non c'era una porta che era chiusa forse di qua eh si dove c'era il pichu banano la starò andando il giusto perchè da qua scusa eh non è quello che esco fuori e non capisco boh proviamo a vedere cazzo ah si qua esci fuori si no non è questa la porta perchè poi se esco fuori dove vado? vado nel giardino ma che cazzo me ne frega me del giardino quindi apri quindi non lì ma non c'era un posto che scendevi giù mi ricordo allora da qua sono arrivato di qua allora apri probabilmente sto facendo tutte cose inutili ah qua però c'è qualcosa dove? esamina ah ho trovato una lente bene c'è qualcos'altro? qua aspetta ma noi eccolo lì esamina forse è giusto qua eh o forse no lì l'avevo fatto il minigioco lì l'avevo fatto il minigioco qua non c'era una porta questa questa porco eh non ero preparato aspetta ricordi christina si era giusto qua eh ma d'attimo che christopher pochissima vita items eh usiamo un sacred water va indietro mettimi sta cazzo di fotocamera e non l'ho beccato perchè non l'ho beccato e non l'ho beccato perchè non l'ho beccato orvo bastardo scusa ho sbagliato items eh sto sprecando il mondo devo ri riprendere la mano eh così va bene aspetta aspetta corri porca puttana eh vaffanculo che cazzo peccato questo qua oh l'ho beccato eh statoione dove vai niente è finito dentro il muro sta in potere niente non l'ho becca non l'ho becca sto stronzo e usa tutto va adesso dove è sta un po' fermo ma da dove mi ha saltato gli scalini ma non posso aprirla no ho fatto la spronzata scappa un po' carica tutto bene tutto bene ma vai tua casa santi un eroio è se tratta sempre puro dov'è? ah c'è la testa qua ma no non la becca fanculo va è andato via e non l'ho beccato e non l'ho beccato guardò e vai oh è tipo 61 sì ma come fai ho beccato quella scala? è impossibile vai a cagare no ma mi becca barda vaffanculo adesso da dove? un altro game over quant'è il quinto? non mi ricordo neanche più e facciamo un taglio finchè non sono di nuoli allora sono di nuovo qua vicino è vero che abbiamo trovato la lente camera oscura lenti questa qua arancio cazzo adesso io tolgo questa e voglio mettermi l'altra come cazzo facevo già così? proviamo a mettere questa ah ok enchantamentazione lente ah già completa questa ok camera oscura ah minchia uh così bene bene eh ma lasciamo così sensibilità facciamo questo proviamo di nuovo mi son comprato un po' di tipo 14 e un paio di cure adesso ne abbiamo 10 ma perché lì dentro è troppo 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 stretto qua aspetta mettimi questo qua arancio che voglio provarlo qui ci sono ci sono eh sto giro va a cagare va ah vai ma vedete però è un po' baggazzo è da sotto il terreno mi prende è porco ma io voglio provare una roba posso tornare indietro? ma faffanculo posso andare qua vieni qua dentro siamo un po' più a largo vai non l'ho preso ma scusa però eh l'ho beccato però non vale l'ho beccato mettimi sta fotocamera di merda guarda che si sposta sto troione vai a cagare ma perché non lo becca? io non capisco ma cagare ma non è possibile ma noi allora fai a cagare così gli ho beccato il cappello e fai così dov'è? dov'è? ma basta! ma non riesco neanche a spostarmi e adesso dove è il bastardo? guarda che sfida c'ho oggi? aspetta eh ma io me ne vado ciao orco cane quindi se esco qua lui non mi rompe più il coglione è andato via per sempre? beh secondo me no e quindi? ah non era neanche il posto giusto io ho sprecato roba per cosa? allora però mappa e dove cazzo l'esto ha i bara infermeria ah forse quello lì era un fantasma speciale tutto inutile ho sprecato un botto di baffanculo mi verrebbe di da ricaricare eh facciamo così intanto load e faccio qua l'unica roba che non ho più la lente però io faccio così trade eh se adesso gioco di nuovo tutti i punti tre facciamo tre cure così va bene quelle lì van bene diamo giusto prendere la lente e poi guardiamo che puntata inutile no mi da fastidio do cazzo le sta i bara di merda fantasma del cazzo quello la allora dai cammina però porco cane allora qua e qua per terra là c'è l'altra roba prendi prendi ok la lente l'abbiamo trovata qua prendi questo qua facciamo camera oscura lenti ne tolgo una tipo questa qua no come faccio non voglio l'inciantamentazione lenti togliamo questa e metto quell'arancio ok camera oscura qua facciamo max power e basta o fanculo e quel fantasma va a fan bagno le cazzo si è incastrata cazzo c'è lì scusa eh ah c'è un buco e allora dove cazzo devo andare? ci ho perso una vita ho perso tempo per cosa? per niente allora però di qua era giusto perché c'era il fantasma brutto questo qua è il salone sta qua o questo non capisco più niente ah ma di qua non ho mai provato ad andarci ma era chiuso le altre volte e anche adesso è chiuso ah però posso fargli la foto va a cagare era qua aspetta mettimile tipo 7 ah beh nel male ho risolto qualcosa il buco eh ci sono appena stato nel buco non mi dire che poi nel buco devo andare sotto togli via vai bene bene stiamo risolvendo qualcosa non so se vi velocizzo delle parti ve l'età non lo so qua c'è qualcosa ecco da sopra mi dava qua sotto ah quello rosso bene qualcosa abbiamo fatto aspetta che io passo qua vicino bam così mi ha fatto salvataggio automatico e qua apro e andiamo a fare la foto al buco dai aspetta voglio fare la foto ok vaffanculo va togli il bianco e nero bene e qua c'era la foto da fare coglione ah devo esaminarlo non ti buttar dentro eh trovate una chiave la chiave di quella porta di merda si e adesso da qua ce ne andiamo ma ne frega un cazzo aspetta infermiera ok mi ha lasciato qualcosa sembra di sembra che è una troia questa infermiera vabbè ora lì vai a cagare no tipo 14 no dai vaffanculo la faccio a mezza e ho fatto uno sbaglio items e ogni tanto si comunque col fantasma la mi sa che era stronzo che era di quelli bastardi da sconfiggere aspetta che qua io mi incastro nel buco che è lì la ma è un fuore oooohh almeno mi da soddissuazione lei Aspetta che non voglio sbagliare Ah mi ha lasciato qualcosa Dove? Ah qua Ah ma non era una trappola Un diario della Infermieretta Ok Va bene Ah Grazie a tutti. Orco cane, via. Non mi piace quella stazione radio. Ruka, andiamo ad aprire la porta. Aspetta, eh. Sì, è giusto. Ah, era venuto... era venuto il cosetto. Aspetta. No, ho sognato, patate. Vai, 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 vai. Sali, sali, che andiamo a usare sta chiave di merda. Chissà quel fantasma là quanto era forte. Cazzo ne so. Comunque sì, mi sa che è un pezzettino velo... velocizzo. Non lo so, forse è quel pezzo iniziale che non sapevo dove andare, ho aperto 40 volte la mappa. Forse lì ve lo velocizzo, va. Ho usato la chiave. Quindi, qua dove siamo, mappa. Qua siamo per le scale. Ah, già hanno aggiornato il gioco. Qualche giorno fa. E non so se hanno messo... Gli obiettivi in inglese o no. Ma dove è? Per qua. Ah, l'ho trovato, visto. Ok, bene. Allora, dai. Scendiamo. Ho acceso la sigaretta, stavo risalendo le scale. Dio. Cazzo di fantastico. Va a cagare. Se sono due. Eh, gli ho fatto poco, mi sa. Ma sto qua vola? Toccao il microfono. Eh, sì. Toccao il microfono. Sì. 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 Oh, cagare. Oh, cagare. Ti ho fatto solo 41, ma... Eh, ma adesso c'è due davanti e dietro di... Ecco, uno è là. So già, me lo piglio nel cubano. Ecco, lo saperemo che le scale, maledette! Quanto ho di vita? Eh, sì, conviene. Scusa. Eh, ma ce l'ho dietro anche. Te vai a cagare. Eccolo! In faccia, bastardo! Che cazzo che fai? Eh, uno è morto. E l'altro dove cazzo sta? Eh, smettila! Ti faccio vedere io. Che bastardo! Si tira indietro, stronzo! Che è tipo sette? Dov'è? Qua. Senti, fammi passare di qua. Che mi si incastra la stronza. Eccolo lì. Eccolo lì. Vai a cagare, muori! No, eh. Così. No, si è incazzato. Ho sbagliato, tolto la fotocamina. Eccolo lì. Questo dov'è? Cazzo! Eccolo! Vaffanculo! 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 Come volevi, eh? Pezzo di merda. Ah, mi ha lasciato qualcosa, magari? No. E' proprio uno stronzo. Bene. Qua? Cascio. Quindi io sto andando. E' items. Ciao. Sto andando di qua. Apre. Ah, ho capito! Il pezzo dove c'è il tizio con... La... La torcia. Sto qua. Questo sarà tutto chiuso. Non è vero. Però mi aveva fatto vedere... Aspetta, eh. Ai bar infermeria. Mappa. Qua. Doctor Office. Patient Lounge. Eccola qua. Qua dentro. Ci abbiamo fatta. Qua. 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 Fai vedere? Devo passare di lì. Però non c'è un salvataggio, Cristina Gavena. No, eh. E' chiuso. Quindi se lì è chiuso... Io vado... Qua nel coso del dottore... Troverò la chiave. Forse. No. Questo qua è un bagno. Apri. Che cazzo di giro sto facendo? Che qua c'è qualcosa. Che cosa? Tutto a posto? Ah, Sacred Water. Bene. Male non fa. Qua non c'è niente, no. Quindi forse di qua... Ah, non ci sono i poster di Ellie Slime? Qua non c'era il poster l'altra volta. Ah, eccolo lì. Scusate. Allora. Eh, ma... Ma scusa. De cazzo sono finito. Ah, qua è un piccolo... cieco. Eh, ma... Quindi? Telecamera, grazie. Qua non c'è un cazzo. Beh, qua non c'è un cazzo. Gli altri qua. Forse devo andare sotto. L'hai chiuso qua. Questa qua è sbarrata, è chiusissima. Se tu qua hai un muro... Sì, è un muro. Devo prendere la scensore. O le scale? Ancora meglio le scale. Prendiamo le scale, va. Scendi solo le scale, va. Ah, il salvataggio. E qua sicuro c'è... Una brutta signora, mi sa. No? Non c'è niente. Sì che c'è qualcosa. Aspetta, ho visto qua. Ecco. Che sarà mai? Sì. Ah, Blue Spirit Stone. Bene. Qua. Parte il salvataggio che ci passo di fianco. Niente. Ma tra l'altro. Mappa. Sta ai bar di merda. Examro. Medical Director. Operating. Reference. Quindi... Eh, sì, quella là del piano di sopra. Dovremmo trovare, mi sa, una chiave. Forse qua nell'ufficio del direttore. Forse. Non lo so. Eh, perché sopra è chiusa. E niente, io direi che con questa notizia bomba è tutto. Salviamo. Anzi, prima fai vedere se posso potenziare, va. 20. La carica, così è più veloce. Completo, bene. Buono, la carica l'abbiamo arrivata dei coglioni. Invece le lenti. Lenti. Non lo so. Cazzo fare. Questa, va. Facciamone una di questa. E una di questa. Boom. Ok. Poi. Eh, sbaglio i tasti. Sono scemo. Quante ne ho? Eh, compriamone... Due. Sei. Sei. Tipo quattordici. Facciamo così. Tredici. No, porta sfiga. Poi provare ancora uno, va. Così. È 58.128 punti, eh. È un po'. Tipo... 61, va bene così. Erbe, va bene così. Salviamo, se mi prende il tasto su. Salva. Eh, p... P-p-p. Li floppy, salviamo. Quattro ore e cinquanta tre. Poi volevo vedere. Ma hanno aggiornato il gioco. Ma gli obiettivi? Sono sempre in giapponese? Si. Ok, volevo vedere quello. E con questa notizia bomba e questa puntata mezza inutile è tutto. Un saluto da Rucca, uno da Criu e al prossimo video. Ciao ciao!